Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo capitolo delle analisi e oggi parleremo naturalmente di Carato, Volpicida, Fox Hunter comunque insomma prima di iniziare però vi ricordo che questa era una fusione tradizionale un po' come Razin un po' come in questo caso ancora Guardacimeli e Bocca Larga di conseguenza nel momento in cui scade la fusione voi avete perso il campione se non l'avete fuso che cosa significa? Che non potete aspettare la CVC per fonderlo, ok? perché entro la CVC lui è già scaduto e non potrete fare nulla per riottenerlo se non l'avete fuso insomma quindi grande grande attenzione è un po' una fesseria della Plarium perché secondo me potevano chiudere la fusione durante la CVC è vero che potenzialmente chiunque lo poteva fondere però vado anche a premiare chi si è sfortato insomma di portare a termine la fusione, non ci vedo niente di sbagliato comunque è così e quindi fondetelo tranquillamente oggi se avete già tutto il materiale che serve perché tanto non riuscirete a farlo durante la CVC ma andiamo un attimo a recuperare brevemente il suo kit molto molto brevemente in realtà perché ne abbiamo già parlato più che sufficienza nei scorsi giorni comunque attacca tre volte con la prima, mette un indemorimento che va benissimo con la seconda attacca un nemico e può stordire per due turni però questa skill fa molto danno, mi pare che abbia un 6,3 di moltiplicatore poi è aumentato del 20% con i Tommy quindi insomma c'è possibilità di fare molto molto male nel caso in cui ci sia Yumeko nel team resetta i tempi di ricarica di questa destrezza oltre a prendere un turno extra e quindi lui può diventare una macchina da guerra a un colpo con questa destrezza che è tantissima roba perché se ci pensate ci sono altri campioni che fanno questo attaccano e prendono un turno extra però di solito lo fanno con la prima destrezza come ad esempio Ordin oppure mi pare che ci sia Gintoro o anche Urdig, sì quindi sono tutti validi assolutamente ma con moltiplicatori da skill primaria mentre qui abbiamo un moltiplicatore grasso, grosso perché è quello di una seconda skill notevole, è ovvio che serve Yumeko per utilizzare questa funzionalità e poi con la terza va a bloccare le destrezze attive tutti ogni 4 turni per 2 turni, niente male se c'è Yumeko non si può resistere questo debuff ma comunque noi dovremmo lavorare anche un po' sulla precisione se vogliamo sfruttare questa cosa e poi abbiamo la passiva più strana della storia infatti i danni inflitti da questo campione non possono essere ridotti dalle destrezze passive o dalle maestrie dell'avversario ad eccezione delle destrezze passive del boss si fa riferimento per esempio allo scudo calato del Cavaliere Pirico piuttosto che allo scudo dello Scarabeo insomma ecco, queste passive che mitigano il danno in qualche modo verranno prese in considerazione comunque da Carato non le ignorerà mentre per quanto riguarda tutti gli altri avversari no i danni inflitti da questo campione però non possono essere aumentati né dalle maestrie di questo campione né dalle destrezze passive degli alleati e questo è un limite niente male non tanto per le destrezze passive perché nel contesto principe di questo campione che è l'Arena di sicuro non andremo a portarci Badelkasar comunque sono pochi quelli che lo fanno o ecco, tutti questi campioni che in qualche maniera grazie alle loro passive riescono ad aumentare i danni qualcuno porta GURP TOK ecco, anche quella passiva non funzionerà ma soprattutto alle sue maestrie e oggi nel damage test andremo a confrontare un campione dotato di tutte le maestrie necessarie per fare danni a confronto con lui ogni qualvolta Yumeko muore prendendo uno extra con tutte le destrezze ricaricate ok, carino ulteriore cosa in più se c'è Yumeko nel team ha un'aura poi tasso decisivo alleato più 20% di tutte le battaglie che non è moltissimo però è una cosa molto molto buona se per caso siete riusciti a fonderlo oppure se lo trovate dalle schegge abbastanza prestino potrebbe essere un buon leader nelle rocaforti infatti dopo andremo a vederlo anche in quel contesto detto questo direi di fiondarci la build ed eccolo qua ed eccolo qua l'ho realizzato per fare danni ma gli ho dato anche un po' di precisione insomma ho voluto fare un misto mare come statistiche gli ho dato un 44.000 HP più che sufficiente 4537 di attacco è basso però per l'uso che ne faremo oggi dovrebbe essere abbastanza sufficiente 189 di velocità un po' bassino oggi lo vedremo più che altro come nuker piuttosto che come cc nonostante comunque abbia la precisione per farlo 100% di tasso va bene 249 di danno va abbastanza bene la resistenza non ci importa molto mentre la precisione si 315 è un valore sufficiente per farlo lavorare anche in torre tosta qualora io dovessi avere bisogno insomma di un blocco delle destrezze attive ad area in quel particolare contesto per l'arena serve molto di più se volete essere sicuri insomma di piazzare questo blocco delle destrezze attive altrimenti potete ignorare la cosa però ritengo che sia comunque valido andare a bloccare quei campioni che si tendono a non fare con tanta resistenza che sono i nuker quindi se io vado a bloccare una trunda vado a bloccare un candrafono anche se non lo uccido lo blocco comunque ha fatto una gran cosa perché il mio avversario diventa immediatamente molto meno pericoloso parlando dei pezzi utilizzato naturalmente un set selvaggio andiamo ad ignorare 25% della difesa ed è molto molto buono anche set percezione utile con più velocità e precisione in particolare la velocità in questo caso sono un po' carente mi ha fatto bene i pezzi utilizzati sono stati naturalmente uno standardo precisione se proprio non vi interessa volete utilizzarlo come nuker pur o i moltiplicatori li avrebbe andate di attacco però questo è un pezzo buono perché comunque il doppio era il suo attacco c'era poi danno decisivo naturalmente nell'amuleto attacco con attacco rollato questo mi è andato un pochettino male ma vabbè ce lo prendiamo e poi sopra solo i pezzi quindi danno decisivo nel guanto con un po' di tasso sotto ancora attacco con tasso e velocità poi velocità con tasso poi sopra danno decisivo perché avevo già raggiunto tutto il tasso che mi serviva qui tasso due volte e qui guardate questo è un pezzo bellissimo velocità tasso e danno attacco questo è il pezzo perfetto praticamente con doppio roll su tasso questo è proprio un bel pezzo allora parlando un attimo delle maestrie sono più semplici di quello che si può credere perché per il percorso attacco è uno slalom per raggiungere schianta elmi che invece funziona sono tutte le altre che non funzionano tipo cuore di gloria non funziona perché aumenta i danni non aumenta statistiche ne va ad ignorare statistiche avversarie quindi schianta elmi funziona perché non ci fa fare più danno semplicemente ignora la difesa degli altri così come precisione letale funziona perché è una semplice statistica che si aggiunge e lo stesso vale anche per colpo perfetto varrebbe anche eventualmente per esecuzione impeccabile tutte le altre che vedete invece non funzioneranno tranne forse questa qua probabilmente turbine della morte potrebbe funzionare le altre no quindi questo è un po' un percorso obbligato per utilizzarlo esclusivamente nelle roccaforti ma vi sconsiglio potreste chiudere con stermina gigante invece il percorso assistenza ci dà due o tre cosettine quindi va bene la precisione in più va molto molto bene il sortileggio che è la maestria di cui vi parlavo ieri va bene anche tradizione d'acciaio poi naturalmente dipende dai set che avete impiegato e poi ho scelto fretta spirituale che ho ritenuto un pochettino più interessante rispetto a cecchino va bene si aumentava la probabilità di andare a mettere l'indebolimento con la skill primaria ma va bene così va bene così non è comunque male utilizzare maestro di malefici andare ad estendere eventualmente questo blocco delle destrezze attive perché non è contemplato fra questi debuff di controllo quindi il blocco a destrezze attive si può estendere molto molto bene parlando dei tomi rapidamente allora servirebbero in particolare in questa destrezza qui che è una vera bomba e quindi più volte la utilizza meglio fa bene quindi il turno in meno di ricarica ma anche il danno in più e sicuramente mi serve questo blocco a destrezze attive al 100% già all'80% non è malvagio però al 100% sicuramente è meglio mentre sulla prima vedete che non glielo ho dati insomma glielo ho dati uno alla volta e sono stato anche un po' fortunato devo dirlo però comunque questo 5% extra non mi importa questo 5% di danno extra non mi importa più di tanto insomma quindi me lo tengo così com'è allora vediamo un pochettino di utilizzi nel pratico quindi prima di partire con il nostro damage test vi spiego un attimino il team abbiamo giudicatore per aumentare l'attacco abbiamo Helmut per aumentare un pochettino le altre statistiche ho scelto Lidia al posto di Venere per non influenzare troppo Cupido che sarà la nostra pietra di paragone Cupido comunque qui anche per la sua aura e poi abbiamo Carato allora andiamo ad aumentare l'attacco a tutti quanti e andiamo a ridurre la difesa e mettere in debolimento sperando che Lidia lo faccia a tutti vedete che qualcuno si dimentica sempre ma vabbè ma vabbè adesso andiamo ad aumentare un po' le statistiche e adesso vedremo la differenza fra le maestrie perché Cupido e Carato hanno grossomodo la stessa build più o meno hanno lo stesso attacco Cupido tra l'altro non è in set selvaggio però comunque si compensa con le altre statistiche almeno e in più ci sono tutte le maestrie che nel caso di Cupido funzioneranno mentre in quelle di Carato no quindi comparazione della terza skill di Cupido con la seconda di Carato ce la prendiamo con questa strega bam 146.000 dignitoso non è altissimo ma comunque va bene vediamo adesso Carato cosa può fare contro questa mano mistica 134.000 buono un pochettino meno rispetto a Cupido sappiamo che Cupido viene fuori al massimo quando si trova insieme alla moglie però oggi l'abbiamo messo apposta così nel complesso è più affidabile per one shotare gli avversari quella di Cupido insomma vedete che comunque mano mistica ha smesso di essere pericolosa con i due turni di stordimento ok però resta il fatto che è rimasta in piedi questo è un damage test e sarebbe stato un po' più carino insomma portare a casa tutti i nostri avversari o almeno quello che abbiamo colpito allora adesso direi di provare la A3 quindi grazie per aver stordito qualcuno perfetto e vabbè qua morirà mano mistica non importa ce la prendiamo con chi resta allora test della A3 abbiamo ancora aumenta attacco e aumenta danno bam 140 ho visto 120 140 non è tanto raga non fa molto danno contro gli avversari che non sono dotati di maestrie quindi in questa situazione nel PVE in generale la passiva di Karato è soltanto un handicap per lui perché non vado ad ignorare niente dei miei avversari tranne passive particolari che potrei incontrare ecco quello sì in particolare in Torre Sventura dove ci sono Norog dove non ci sono Duchesse ma nel PVE classico quindi le roccaforti ho pochi avversari dotati di questo tipo di passive significa che non ha senso utilizzare il nostro Karato nel PVE no secondo me invece ha il suo spazio andiamo oggi a provarlo contro il Cavaliere Pirico 20 in un team abbastanza abbastanza classicone dove abbiamo messo un po' di ruoli utili quindi abbiamo le nostre due Qual Glaciari che ci aiuteranno molto abbiamo via con l'automatico naturalmente abbiamo poi Farakin che ci aiuterà contro il boss ma anche a fare danni durante le ondate e poi abbiamo Cavaliere Cervino che è una bomba a mano per due motivi fa danni anzi per tre fa danni va a mettere la riduzione dell'attacco e la riduzione della difesa con la stessa skin ma soprattutto è in set scudo e quindi riusciremo a prendere un paio di colpi dai nostri avversari soprattutto le nostre Quark Glaciali insomma riusciranno a prendere un paio di colpi dai nostri avversari senza per questo morire immediatamente al primo colpo infatti vedete che hanno retto alla stragrande alla stragrande allora Karato nel frattempo fa danni ma soprattutto va a bloccare le destrezze dei nostri avversari di conseguenza Alice non ha potuto utilizzare quella che va a ridurre il contattore insomma anche Errol non è riuscito a fare il massimo del suo danno bene 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 vedete che intanto lo scudo è andato giù adesso poi Cervino dovrebbe mettere la riduzione della difesa perfetto e adesso 1 minuto e 18 minuto e 20 e la partita è finita non è male è un tempo da farming dignitoso assolutamente non è il miglior tempo del mio account però è un tempo da farming comunque soprattutto durante una super ride come adesso quindi ecco non ci sono particolari leggendari oltre a Karato non ci sono Profetesse non ci sono Zavie non ci sono Elenary ecco tutti questi campioni particolari da speedrun però il tempo è praticamente da speedrun vediamo un po' che cosa ho preso HP base vabbè però magari provo a rollarlo e vediamo se poi con un se non orsi riesce a fare qualcosa di buono e qua invece no questo lo butto via ok allora direi che per i pve abbiamo visto a sufficienza ci spostiamo adesso nell'arena allora partiamo da un team lento con il doppio nuker praticamente quindi supponiamo per un attimo che io non abbia Madame Serris e vediamo che cosa succede quindi vado ad aumentare l'attacco ai miei campioni perché mi serve vado a strippare con Kaimar sperando che lo faccia tutti bene aspetto che si siano svegliati e se per caso Trunda non riesce a portare a casa la partita ed è probabile insomma perché Krisk non è così semplice da one shottare allora Karato subentra andando a fare piazza pulita di quello che rimane o almeno quanto meno andare a bloccare le destrezze attive dei miei avversari ci proviamo comunque vedete che comunque almeno Valchiria è rimasta in piedi capita capita anche con le Trunda grosse allora adesso è un avversario solo quindi posso permettermi di eliminarla con la sua a2 se fossero rimasti in piedi più avversari allora naturalmente andavo di a3 speravo di chiudere la partita in caso negativo se sia Trunda che Karato avessero avuto statistiche un pochettino più basse rispetto a quelle che in realtà hanno allora magari potevo permettermi di utilizzare questa per andare a bloccare le destrezze attive e guadagnare più tempo per il mio team per poter vincere ok allora tiriamo giù questa 30.000 vedete che non è tantissimo comunque nonostante Valkyria abbia tutte quelle maestrie che vanno un po' ad aumentare la sua difesa vabbè vabbè ok non importa non importa vediamo qualche altro team proviamo un altro team Tenkoso sempre andando a utilizzare lui come Nuker però penso che qua ci siano già più elementi da andare ad ignorare insomma per fare un buon lavoro Kandrafono come sapete va a nascondersi sotto un velo per ricevere meno danni se partiamo prima di lui ed è probabile insomma infatti partiremo prima noi adesso andiamo a mettere tutti a dormire e vediamo vediamo che cosa succede tutti tranne Kandrafono naturalmente oh si sono svegliati tutte questa è una cosa molto molto buona per noi almeno sappiamo che la reazione non ci darà fastidio vediamo adesso che cosa succede a Kandrafono se andassi a utilizzare Tronda o Foglio o qualsiasi altro campione blu almeno sarebbe molto molto difficile togliere dai piedi Kandrafono in un colpo solo grazie alla sua passiva e anche all'ulteriore mitigazione del velo quindi vediamo un one shot pulito vedete che comunque ha il suo perché da utilizzare in attacco come nuker perché ci sono questi avversari che sfruttano le passive anche se per esempio non avessimo addormentato Duchessa e avesse messo tutti sotto un velo perfetto avrei potuto one shotare in ogni caso i miei avversari perché Karato va ad ignorare anche la passiva di Duchessa al suo perché va inserito nel team corretto però ecco se non avete un nuker per l'arena dove tutti i nostri avversari hanno le maestrie dove tutti in difesa cercano di coprirsi in qualche maniera con passive con maestrie varie insomma con tanti scamotaggi allora lui potrebbe essere la soluzione allora non ho preparato però è contro onestamente oggi ma se c'è un grosso contro di questo campione è proprio la sua passiva per l'utilizzo in generale soprattutto la parte in cui va a ignorare le proprie di maestrie o le passive dei miei alleati questo va a complicare un pochettino l'utilizzo in combo insieme ad altri quindi non posso metterlo insieme a Badai Casar per fargli fare più danno non posso metterlo insieme ad altri campioni ecco almeno lo metto ma fa il suo lavoro senza beneficiare di quello degli altri e devo realizzare le mie strategie basandomi su quello che i campioni materialmente fanno come ho fatto prima con Farakin durante la battaglia con il cavaliere pirico mentre come pro abbiamo comunque un comparto danni di tutto rispetto perché i moltiplicatori ci sono e in arena dove invece sì i miei avversari sono coperti potrebbe tirare fuori il massimo del suo potenziale come avete visto nell'ultimo fight detto questo raga il video finisce qui quindi come al solito vi invito a lasciare i vostri pareri i vostri commenti se lo avete fuso se dovete ancora fondarlo se siete contenti di quello che avete visto mi raccomando fatemelo sapere se vi è piaciuto questo video insomma ecco poi mi raccomando mettete mi piace accendete la campanella iscrivetevi al canale in questo modo avrete una giornata fantastica sarete felici e contenti avrete uno sguardo felice come il nostro carato e infine come dico sempre siate furiosi ma rimanete bradipi grazie a tutti Grazie a tutti.